Non ci credo, non ci credo, KD, KD Buongiorno a tutti ragazzi, non poteva non esserci questa mattina la reaction Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, gara 5, pivota il game Ragazzi, si parte Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, pivota il game, ho evitato ogni tipo di social, ho evitato messaggi, ho evitato qualsiasi cosa per arrivare il più possibile blind a questa partita Grande notizia, c'è James Harden in campo, non si sa in quali condizioni, manca ovviamente Kyrie Irving Ma tutte le speranze dei Brooklyn Nets passano secondo me per le mani di questo qui Del numero 7, ora mi aspetto una partita da 50 punti, se vogliono i Nets cercare di portarla a casa Staremo comunque a vedere, intanto partono abbastanza piano le due squadre, 4 a 2 dopo 3 minuti di gioco Ecco qua, il flotterino, il flotterino di Giannis, e questa potrebbe essere, non so, una soluzione per il futuro di Giannis Non male, non male il flotterino, qua Drew Holiday sfrutta il drop in difesa di Blake Griffin e va con la tripla Ragazzi, io sinceramente mi aspetto, mi aspetto veramente una prestazione maiuscola di Kevin Durant È l'unico, è l'unico che può vincere questa partita per i Milwaukee Bucks Staremo a vedere, fatto sta che a detta di tutti e anche a detta del sondaggio fatto sì ieri su Twitch I favoriti secondo voi sono proprio i Milwaukee Bucks che qua si portano addirittura sul più 11 Più 12 a un minuto dalla fine del primo periodo Con la tripla di Jeff Green ma grandi difficoltà offensive Per i Brooklyn Nets che dopo gara 2, quindi da gara 3 in poi Hanno fatto una fatica mostruosa a segnare canestri E pare strano dirlo visto che hanno, fino a gara 4 avevano Kyrie Irving e Kevin Durant Due dei principali attaccanti della storia NBA Ora per carità c'è solo KD, c'è James Harden che per ora si è visto veramente poco Sembra abbastanza statico in campo, non sembra forzare più di tanto C'è l'hand one di Middleton più 13 miluocchi Che diventa più 14 con l'hand one a inizio secondo quarto La partita sta prendendo una piega a favore dei Milwaukee Bucks, staremo a vedere Per ora non abbiamo visto nessun canestro né di James Harden né di Kevin Durant Mentre continua a martellare Chris Middleton ancora più 13 per Milwaukee James Harden che chiaramente è in gestione ragazzi Non sta forzando assolutamente niente È in totale gestione E anche Blake Griffin deve per forza di cose dare qualcosa in più Come in gara 1 e gara 2 39 a 29 comunque più 10 miluocchi Ancora problemi in fase di scoring per i Brooklyn Nets E per ora ribadisco sia KD che James Harden Molto 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 tranquilli Forse anche un po' troppo passivi Comunque più 11 miluocchi Oh là! Ecco il primo canestro di KD Che si sveglia a metà del secondo periodo Ancora Splash Mountain Va a portare un blocco Ha detto Combo vuole il cambio con Blake Griffin Che lo difende a 4 metri E Giannis ogni tanto la tripla la mette Ancora più 12 miluocchi E ancora Giannis che viene marcato a 2 metri di distanza da Griffin E con coraggio gli stampa il tiro in faccia E poi dall'altra parte stoppa Joe Harris Bucks in totale controllo sul più 14 Qua riceve in movimento come vedete Harden Spostamenti laterali non ne fa Siamo a più 16 Quando KD recupera palla Buona difesa di Middleton Poi KD alza per Jeff Green Si torna più 14 miluocchi Problemi di falli per Drew Holiday Che è già 3 E potrebbe essere un tema Questo qua perché Drew Holiday Primo quintetto difensivo stagionale Ricordiamolo Quindi insomma miluocchi Per problemi di falli Perde un signor difensore Ancora Jeff Green Ancora Blake Griffin Che va a schiacciare Però però Sempre avanti miluocchi Più 12 Per ora solo un canestro di KD Zero ancora per James Harden Sono gli highlights estesi Durano 17 minuti Quindi insomma Avrebbero sicuramente fatto vedere Qualche canestro di Harden O Duranto se ci fosse stato Boh Vabbè Qua Griffin viene lasciato sul posto Tenta l'aiuto a Harden Che comunque è sempre in campo Harden è sempre in campo Ma non sta minimamente forzando Anzi In totale controllo qua KD Su PJ Tucker Sfrutta l'altezza Meno 12 Ancora Per i Nets Poi Chris Middleton Da 3 Dopo le prime due partite Chris Middleton Sta tirando alla grande Siamo a più 15 miluocchi Che qui stoppa ancora E Palla Giannis Ancora Blake Griffin Ritorna Giannis prende la rincorsa Griffin difende A 4 metri Qua prende una Gomitata Sulla tempia Ma Giannis arriva al ferro E siamo a più 17 Rischia di essere una catastrofe Questa per i Per i Brooklyn Nets Anche se qui KD Infila Un altro canestro Ma siamo All'inizio del terzo periodo Più 14 miluocchi Che è in controllo È assolutamente in controllo Vediamo se i Nets Riescono in qualche modo A sovvertire la partita Certo c'è bisogno che KD Prenda in mano la partita Però perché ragazzi Finora Qua tripla di giruoli Dei in faccia Blake Griffin E Più sedi No Più 17 miluocchi A metà del terzo Quarto Ancora Arden Qua con Canestro And one Però Arden Si vede chiaramente Che non c'è fisicamente Ragazzi Non riesce a forzare È in campo Per dovere di cronaca Ma Ma veramente Non forza niente Qua The Splash Mountain Dall'angolo Per il 74 A 57 Più sedi Più 17 Qua tripla di Griffin Nets che tornano A meno 14 Ancora Middleton Più 16 E niente da fare Ragazzi I Nets Stanno facendo Una fatica Mostruosa Mostruosa Milwaukee È in totale Controllo Per ora Qua palla All'angolo Per KD Vediamo se sfrutterà L'altezza Contro PJ Tucker Invece lo Lo attacca E arriva al ferro Più 14 Ancora Per Brooklyn E per Milwaukee Qua Sbaglia Giannis Rimbalzo Nets Ancora KD Che attacca Allarga Per Jeff Green Tripla E i Nets Tornano A meno 11 Meno 11 A 5 minuti Dalla fine Del terzo periodo Si riavvicinano Un minimo Vediamo se troveranno Il terzo canestro Di fila E metteranno Un parziale Magari Ancora Si cerca Ovviamente KD Gran palla Di KD Gran palla Di KD Per Shammett E tornano A meno 8 I Brooklyn Mets Qua ci deve essere Stato un libero Perché tornano A meno 9 Però ragazzi KD Gran passatore In questa partita Ha già Fatto un paio Di passaggi Mica male Lo cercano tutti Probabilmente ragazzi Adesso non vorrei dire Una fregnaccia Ma Sembra che KD Si sia gestito Nei primi due quarti Per arrivare fresco Tra il terzo e il quarto Periodo A quanto pare Perché comunque Adesso lo cercano Sempre Qua schiacciata Di Giannis Per il più 9 Lo cercano sempre E sembra un attimo Più fresco Rispetto a come È arrivato Nel finale di gara 4 Ancora Si cerca il cambio Gran palla Di Arden Qua KD Passo di incrocio PJ Tucker Va a terra E siamo a Meno 7 Meno 7 Ancora Arden Che sta proprio Facendo il playmaker Vecchio stampo Nel senso che Non forza Qua blocco Di KD Per Joe Harris Che taglia canestro E siamo a Meno 5 Meno 5 E ancora KD Non è salito Non è salito Sul trono Ottimi segnali Per i Nets Qua ancora Giannis Da 3 Sfrutta lo spazio Prende la tripla Con coraggio Con coraggio Se non esita Giannis Tutti i Milwaukee Bucks Lo seguono Tornano a più 8 E Milwaukee Bucks A un minuto Dalla fine Nel terzo periodo Qua KD Punta tutta la difesa Arriva al ferro Ancora canestro Più 6 Milwaukee Qua Arden Tenta la tripla Ma non ha proprio gamba Non ha proprio gamba James Harden Dall'altra parte Giruoli Dei bella difesa Di KD E Ancora Griffin Che Non so Questo Non può essere Fallo della difesa Ma ragazzi Vabbè Giannis Arriva al ferro And one Ancora più 9 Milwaukee Comunque in controllo Fino alla fine Del terzo periodo Sono rientrati A meno 5 Dal meno 17 In heads Qua and one Di Kevin Durant Che pare aver preso Finalmente Le redini Della partita in mano Qua brutto errore Di Bruce Brown Che regala Palla a Chris Middleton E poi Dall'altra parte Cos'è Mezzo All'eup Per Per Brooke Lopez Comunque Adesso Palla in mano A KD E basta Per i Brooklyn Nets Che hanno Dato L'attacco Completamente In mano A quello Col numero 7 Che qua Va a infilare Il jumper Dal mid range Per il Meno 6 Sbagliano I Bucks Altra occasione Per tornare A meno 4 O meno 3 Per i Nets Palla ovviamente A KD Che attacca A tutti E altro canestro Dal mid range Meno 4 Ed ora si Kevin Durant Fresco nel quarto periodo Prende in mano La partita Meno 4 Per i Brooklyn Nets Harden non ne ha Viene saltato Come un birillo Da Drew Holiday Che è a quota 15 punti Ancora KD Crossover Assist Per Bruce Brown Arriva Schammett Ancora Con Long Chiu Per Il meno 4 91 87 Partita punto a punto Signori abbiamo una partita Signori abbiamo una partita E soprattutto abbiamo KD Fresco nel quarto periodo A differenza di gara 4 Staremo a vedere Perché qui ragazzi Si può fare la storia Altra grande palla Di KD Voglio vedere il numero di assist Meno 2 Anzi pareggio 91 pari L'hanno riacciuffata I Brooklyn Nets Stringendo le viti difensive Tutto sommato Perché Ragazzi I Bucks erano Oltre i 60 punti Alla fine del primo tempo Adesso sono a 91 Con Giannis Che appoggia il vetro Sfrutta Lo strapotere fisico Contro Jeff Green Durante a 35 punti 15 rimbalzi E 9 assist Ma quando li ha fatti Cioè Non si è visto niente Da questi highlights Ragazzi Se non Tripla DKD Più 1 Nets 38 punti Primo vantaggio Nets Dopo il 2-0 Iniziale I Nets Riacchiappano Una partita Che sembrava Veramente Totalmente In mano I Bucks Ancora però Chris Middleton Non si può dire niente Di Middleton In questi playoff Si sta prendendo Tutte 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 Le responsabilità 25 punti 8 su 18 Dal campo 6 su 7 Ai liberi Per il momento Ma c'è KD Dall'altra pa Non ci credo Non ci credo Non ci credo 41 41 DKD E palla in mano Sempre palla in mano A 7 Eh ragazzi Questa potrebbe essere La partita Che potrebbe far ricredere Molti Eh Perché se dovesse essere L'avrebbe vinta Non dico da solo Ma quasi Qua Schammett Addirittura Arriva al ferro Altro assist DKD Che a questo punto È in tripla doppia 99 a 96 Vediamo se Middleton Si prenderà ancora La responsabilità Di questo canestro Invece palla a Giannis Che attaccherà Ovviamente Arden Che però di furbizia Mette la mano Ancora Giannis Non sanno Non sanno bene cosa fare I Bucks Poi Conaton Trova un corridoio Arriva al ferro Più 1 Nezza 5 minuti dalla fine Piccolo Mini supplementare Ma palla KD Contro PJ Tucker Ancora Gli mangia sulla testa Gli mangia sulla testa Non sbaglia più niente Non sbaglia più niente Giannis Punta Jeff Green Lo mangia Da un punto di vista fisico Arriva al ferro Ancora Meno 1 Per i Bucks Ancora che i 30 Per Giannis Con 13 su 20 E 11 rimbalzi Adesso c'è Middleton Attenzione Middleton su KD Forzerà il cambio Con Pat Conaton Ma Middleton Tenta di rimanere Bella difesa Qua di Chris Middleton Poi la palla allargata Per Jeff Green Più 4 Nets A 3 minuti dalla fine Più 4 Nets A 3 minuti dalla fine Ancora Giannis In post basso Si intestardisce Ma ce la fa 2 punti Forse fallo in attacco Ha sbracciato parecchio Con quel braccio sinistro Jeff Green Corto Palla del pareggio Per i Bucks A 2 minuti e 30 Dalla fine Ancora Arden Su Giannis A questo punto Mi sa che è una scelta Di Nash Mettere Arden Su Giannis Vedete Arden Che proprio passi laterali Non ne ha Qua viene spazzato Via Giruoliday Che pareggia 2 e 20 Dalla fine 2 e 20 Dalla fine Più 1 Anzi 1 e 13 Dalla fine Più 1 Per i Brooklyn Nets Saltano gli highlights Vediamo Chi si prenderà La responsabilità Secondo voi Adesso con tutto il bene Che voglio Arden Che è praticamente Una sedia In questa partita Non ci credo Non ci credo KD KD Più 4 Nets 46 16 e 10 Ma Milwoki Non molla Torna a meno 2 E ha la palla del pareggio La perde però La perdono Perdono la palla del pareggio KD Ha i due liberi Li segna entrambi 111 e 107 Qua Schiaccia Giannis Mandato in lunetta In un modo Spettacoloso Da Da Arden Ancora 1 su 2 Di KD Che a questo punto Credo sia a 49 Sbaglia Chris Middleton La tripla I Nets La portano a casa Dopo essere stati sotto Di 17 Con una prestazione Mostruosa Di Kevin Durant Nel quarto periodo Ancora Middleton Sbaglia Lunga I Nets Vincono Gara 5 Che dire PJ Tucker Da 0 punti 34 e 12 Per Giannis 25 di Middleton 15 di Brook Lopez 19 di Drew Holiday E 10 di Pat Conaton Ma andiamo a vedere I Nets Perché sono curiosi Di vedere le cifre Di KD KD 49 17 rimbalzi 10 assist 3 rubate 2 stoppate Questa Signori 48 minuti in campo 46 minuti Addirittura Per Arden Che finisce con 1 su 10 Dal campo E 0 su 8 Da 3 Gli manca proprio La gamba A James Arden Conclude comunque Con 6 rimbalzi 8 assist E con comunque Un apporto Fondamentale Quanto meno Per la fiducia Dei suoi compagni Di squadra 27 Clamorosi punti Con 7 su 8 Da 3 Di Jeff Green E 17 Di Blake Griffin Che in casa Torna mostruoso Questa è Ragazzi La partita Penso Della consacrazione Definitiva Di Kevin Durant Non che Non fosse già ritenuto Uno dei migliori Ma vincere una partita Una gara 5 Di playoff Praticamente Da solo Contro Una squadra Lanciata Come i Milwaukee Bucks Che invece A parte di Vincenzo Sono al completo Credo possa aver fatto Ricredere in molti Sul Talento Talento Di questo fenomeno Incredibile 13 su 16 Ai liberi Altrimenti un libero in più Voleva dire Cinquantello Come ho detto All'inizio Della live Della live Della reaction Ragazzi I Nets La portano a casa La portano a casa Con un parziale Di 33 a 21 Nel quarto periodo Di 38 a 28 Nel terzo Erano sotto Di 17 punti Alla fine Praticamente A metà del terzo periodo Erano sotto Di 17 punti Sono rientrati Che i D Ha giocato Un ultimo quarto Spaziale Finisce qui La reaction Rivedremo Gli highlights Parleremo Di Bucks Nets In pausa Franzo Su Twitch Per il resto Buona giornata Buon lavoro Buono studio Chi deve fare Gli esami di maturità Buona maturità Un saluto Il Franz Buona giornata